Troppo poco. Forse dovremmo rientrare. Ecco, per Gregoria sembra, sai, alquanto terrorizzata. Ma di che stai parlando? Sto comoda come una zanna qui dentro. E poi? I fuochi d'artificio inizieranno non appena farà buio. Oh, buio. Questo sì che è davvero spaventastico. Non posso credere che non abbiate i fuochi d'artificio in Transilvania. Sono davvero fantastici. Beh, si assomigliano a dei draghi sputafuoco, allora ci piacerà. Ah! Guarda, stanno iniziando. Fanno un gran fracasso, eh? Oh no, è quello che credo io. Scintille, gran frastuono. Sembra che si tratti proprio dei... Tro crudelli! Ah, ritirata! Quelle scintille magiche lanceranno un incantesimo su tutta la città. Oh! Oh, sentito, è già cominciata. Oh, scheletri. Sembra quella volta in cui i troli ipnotizzarono tutta nostra città in Transilvania. Se comportammo tutti come galline per settimane. Oh, ci mancava soltanto la piscisturellite. Dobbiamo andare via da qui. Credimi, V. Va tutto bene. Qui non ci sono troll. Ah! Crudelli. Sì, signore e signora Antleys, siete in casa? Sono i troll. Ho tanta paura, non mi fido. Sembrava la voce di Poppy. Come facciamo a sapere che non sia troll che finge di essere Poppy? Loro possono essere molto, molto astuti. Se solo potessimo vedere attraverso i muri. Demi, tu puoi vedere attraverso i muri. Non vado da nessuna parte. E se ci fosse un altro botto e un'altra scarica di magia dei troll crudelli? Basta così, troll o non troll, aprirò quella porta. Perché hai chiuso la porta? Sono in casa? Sì, loro... Si sono trasformati. Cosa? Voleva dire cambiati per la notte. Ciao! Siamo venuti a vedere come stanno i nostri vicini preferiti. Ci spiace cogliervi in pigiama. Oh, Vampirina, ti sei cambiata in fretta. Cambiata? Allora, hai visto... Teccon indosso il pigiama? No. Mamma, io e Bridget rimaniamo qui. Tu ed Edgar potete tornare alla festa. Ok, tesorino. Sarebbe un vero peccato se vi perdeste il resto della città anniversario, Vampirina. La nostra piccola città non sarebbe la stessa senza voi, Huntley. State tutti bene? Beh, sono in piena pipistrellite e mi sento anche tesa e nervosa. E anche io? Sentite il cuore che batte forte? Sì. E avete le mani o le ali sudaticce? Sì! Caspita! È strano vedere qualcuno che non sia io avere tanta paura. Paura? È questo quello che sento! Io non l'ho mai provata. Amiamo la paura. Mi sento preoccupata. Non so quale sia la cura. Si affanna il mio respiro. E siamo più agitati. Ho quasi un capogiro. Siamo spaventati. Che tremarella. Che sudarella. Mi batte così forte il cuore. Vorrei scappare. Non so che fare. Non è affatto bello avere questo terrore. Adesso scopro come Si sentono gli umani. È spaventoso e come Ci sentiamo così strani. L'idea mi ossilla. La testa strillò. Cerco il coraggio ma non c'è. Mi fa stupire. Lo scoprire. Che a volte la paura Può far male. E non piace Neanche a me Vampirina Su Disney Junior